Scarica le tensioni e distendi la mente in un angolo da sogno, tra il verde delle valli di Verona e i profumi dei prodotti artigianali fatti secondo le tradizioni di un tempo. Fatti coccolare nell'area beauty and wellness tra un massaggio, un bagno nella vasca idromassaggio o un trattamento viso. Il nostro agroturismo oltre a creare eventi abbiamo disponibilità di una beauty farm dove abbiamo saune finlandesi, bagni turchi, doce emozionali, vasca idromassaggio delle buone tisane. Quindi fughe romantiche d'amore per coppie quindi immerse nel verde con le camere a tema e anche per gruppi di compagnia, amici e regali di compleanno. Nel trattamento della spa usiamo i nostri prodotti naturali quindi il miele, il miele di acacia che è ideale per la pelle e l'olio extravergine d'oliva e anche di trattamenti con la vinaccia d'amarone. Per scoprire tutti i trattamenti dell'area wellness and beauty dell'agriturismo visita il sito corteverzè.it